Vai, 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 cosa c'è qua? Cos'è sta cosa ragazzi? Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Oh mio Dio, no raga! Nooo, ragazzi! Ehi là! Gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su un video molto diverso al solito. Sì ragazzi, perché unboxing come quello di oggi ne abbiamo fatti veramente pochi. Non c'è niente sotto la scatola, ragazzi. È proprio la scatola, questa che vedete. Io sono in piedi, eh. Aspettate che mi siedo. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, capite? Cosa c'è qua dentro? Non lo so neanch'io. Vi giuro, non lo so neanch'io. L'unica cosa che posso dirvi, senza aver fatto ancora niente, è questa. Opla! Clash of Clans World Championship. Ragazzi, non World Final, non è Brawl Stars. Questa è la finale mondiale di Clash of Clans. Ma che cacchio hanno fatto qua? Perché sono due pacchi così. Questo è anche abbastanza... No, quello è abbastanza leggero, ma questo è anche abbastanza pesante. Ma che cacchio ci sta qua dentro, signori? Fermi tutti. Allora, io, senza saperne leggere né scrivere, aprirei prima quello più leggero. No? Signori, ho fatto un sondaggio, avete votato il più leggero. Quindi, questo lo togliamo un attimino e questo lo portiamo su. Oddio, leggero. Un po' più leggero, ma non di tanto. Andiamo ad aprire, ok? Non mi serve neanche un tavolino, perché ragazzi ci arriva già così. E già, aspettate, faccio una cosa. Faccio una roba del genere, ecco, almeno vedete meglio anche voi. Iniziamo ad aprire. Iniziamo... Non si apre. È criptato, ragazzi. Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Oh mio Dio, no, raga! Raga, è una goccia di lisir nero! Ma che cacchio stai dicendo? È una goccia di lisir nero! Grossa come una casa, ragazzi! Ma che mi state dicendo signori Ma è morbidissima Ma ci vado a dormire con sta roba Ma stai scherzando così Pensavo fosse un sacchetto con dentro della roba Regà, regà Mi sorprendo così Perché io i gadget supercell Vabbè ne ho un paio là dietro come vedete Ma io li conosco tutti anche quelli che non ho Questo non l'avevo mai visto Esiste il portachiavi Della goccia di visir nero Ma è grosso così Non grosso così Oddio Non mi interessa se è sporco È bellissimo signori Ma è bellissimo Ve l'ho già detto che è bellissimo Ma poi ma dove lo mettono a fare così Regà lo vado a mettere sopra il mini frigo Lo metto qui È l'unico posto Per il momento può stare solo là Non c'è altro posto fisicamente Ma il fatto che abbiamo appena cominciato Cos'è questo? Qua c'è un sacchetto Signori No Aspetta un po' No ragazzi Questo l'avevo già visto Lo conosco anche molto bene Eh devo togliere l'etichetta Purtroppo Ragazzi Il mini sgherro Ma che bello Che è? Ma che bello Regà Ma dai No Questo me lo metto appeso A qualche parte che vola Ma guardate che bello Ma sto malissimo Regà Io sapete che vado matto Per sti unboxing Ma non mi dovete fare questo Team di clash of clans Non mi dovete fare questo qua È pieno di roba Ed è solo il primo pacco Io non so più dove mettere la roba In sti giorni io ho pensato di comprare un altro mobiletto Da mettere la dietro Ma se andiamo avanti di sto passo Io non so più dove metterla la roba Ragà Eppure non posso Non esporla qui Cioè dove la metto No non costa 40 euro Perché questo qua ragazzi Non lo Al momento attuale almeno Non è in venta da nessuna parte Non c'è un sito ufficiale di merchandise Questo qua È un merchandise introvabile Non c'è più da nessuna parte Cioè tutto quello che state vedendo qui Non si può comprare ragà In questo momento Poi un domani non so Se Supercell lanceranno shop o cosa Ma non si può acquistare niente Tantomeno quella gocciolona là Quella mi ha fatto prendere un infarto Lo metto qui In cima Voi non lo vedete Per pazienza Questa oltretutto Io farei notare C'ha il logo Supercell sopra E io per queste sacchette qui Ho una soluzione Ovvero questa È una borsa Con il logo di Clash Royale Che se la andiamo ad aprire Dentro contiene un bordello Di ste sacchette Io le tengo ragazzi Perché sono sacchette anche belle Oltretutto Cioè È un peccato buttarle via Cioè io capisco Non essere troppo Però Non posso buttarle via Ale Qua vedo già un'altra cosa Eccolo Signori Uno E due Benissimo Signori Le statuine in pietra Di King e Regina Allora Qua c'è da dire una cosa Ad Hamburgo Io avevo beccato La statuine della regina in pietra Che è questa qui Quindi questa Effettivamente già ce l'ho Ma quella del King Io ce l'avevo solamente Gold Edition Perché questa qua È la versione standard Che comunque non si trova più Ragazzi Ma io di queste Vi ricordo Ho le versioni Gold Sia del King Sia della regina Top Queste qua Devo mettere da qualche parte Assolutamente Devo mettere da qualche parte Perché fino adesso Questa qui non sapevo Sinceramente dove metterla Perché da sola Non fa la sua bella figura Ma col King Tanta roba Comunque queste Sono anche piuttosto delicate Le rimetto qua Poi le apriamo bene dopo E qua cosa c'è ancora Un biglietto Allora Volevamo Restituire Alla grande O contenuti portati Della community E intendiamo davvero Alla grande Tipo Così grande Che non sta in una scatola Ah perché me ne ha mandate due Giustamente Ok Ok no Sarà per quello Abbiamo Già Stuzzicato La tua curiosità Ah perché Nell'altra roba C'è altra roba Che mi stuzzica Io ho paura Preparati ad aprire Questo pacco Sconcertante All'attacco Clash of Clans Game team Ho paura Ho paura ragazzi Che cos'è sta roba Che cos'è sta roba ragazzi Sono delle istruzioni Te stai scherzando Ma te stai scherzando Ma dove lo metto Ma dove lo metto Ma che cacchio Mi stai a dire Ecco che cos'è Che non ci sta in una scatola Ma dove cacchio Te metto Abbiamo capito Che c'è la finale mondiale Di Casual Class Ma dove ti metto Se non si fosse capito Questo weekend C'è la finale mondiale Di Brawl Stars Settimana prossima C'è questa Di finale mondiale Signori E la castiamo Tutte quanta noi Signori L'ho appeso al lampadario Il video lo continuiamo Così ragazzi Lo tengo lì ragazzi Non so dove metterlo Fine Dell'unboxing Prima scatola Inizio della seconda Tra l'altro Io ho tagliato via Ragazzi Ma hanno fatto Un'etichetta Pure con i miei dati Di spedizione Apposta Col fonte Di Clash of Clans C'è persino Il corriere Che portava Sti pacchi Secondo Clash of Clans C'è rimasto Un attimino così Vai 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 Cosa c'è qua Cos'è sta cosa Ragazzi No 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 Ragazzi Ma mi prendi in giro Un altro biglietto Sei pronto a ricevere Un così serio Swag Preparati a distruggere Wrapping Bash box And Even crash Cardboard Ci sarà un pacchetto Sconvolgente Per ogni giornata Dell'evento Della Brawl Stars Championship E il riscaldamento Di giovedì L'after party Ragazzi L'after party Chi mi segue su Instagram Da più di un anno Sa l'after party Dell'anno scorso Com'era Ragazzi Eravamo ad Hamburgo In cima a un grattacielo E poi di nuovo Pronti partenza Attacco Team di Clash of Clans Firmato Ragazzi Cioè Ma devo commentare È un'opera d'arte Praticamente Cioè Ragazzi Ma io ci arredo casa Con tutta sta roba Sembra una mostra d'arte Allora In teoria Qua ci sarebbero Vari pacchetti Giovedì Venerdì E sabato Giusto? Ah Aspetta No infatti Questo qua ragazzi È giovedì Venerdì Sabato E domenica Ma infatti Non capivo Allora Fermi Non ci si capisce niente Clash of Clans Io capisco Che quest'anno Ci hai fatto stare a casa E hai detto Vabbè Non devo pagare il volo E vabbè Ma era il caso Ma era il caso Ma siete Ma sono matti Sono matti Quei di Clash of Clans Sono matti Ok Perché Io non ho mai Cioè Ne ho fatti di unboxing Ma così Mai Vi vado a spoilerare Giornata per giornata Il contenuto di ogni pacchetto Ok Probabilmente lo rivedremo durante le live Primo pacco Giovedì Ma raga Ma non è Ma non è finito Ma perché c'è scritto Ferra in fondo al pacco Cioè Ma io mi metto a piangere Veramente Io mi metto a piangere Raga Scusate Scusate Allora Il cappello Lo mettiamo poi dopo Raga E' solo il primo pacco Della seconda scatola Ragazzi La tazza Della Clash of Clans World Final Non è In alluminio Come quella di Bro Che abbiamo visto l'altro giorno Ma questa è in ceramica Ragazzi E dentro C'è Le goccioline Delisir Ma sto male Il primo pacco E' finito Cioè Questo è proprio l'inizio Venerdì Che cos'è sta roba Ma raga Ma cosa sto vedendo Ma cos'è Le ciabatte Raga Le ciabatte Della Clash of Clans World Championship Ma stiamo scherzando Perché Quest'anno si gioca in casa E allora Queste ragazzi Next level Poi cosa c'è La spada del barbaro Fatta a mo' Di paletta Come avevano fatto Con Clash Royale Una volta Ve le ricordate Queste di Clash Royale Ecco Sono uguale E' uguale E' uguale Ragazzi Andiamo un po' Che altro c'è Ma stai scherzando Ma che cosa Ma dai Ma non è normale Sta cosa Ragazzi 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 Ma che mi stai dicendo Ma questo c'è ragazzi Non è un unboxing C'è quest'anno Si gioca da casa Allora ci hanno fatto fare L'accappatoio E le ciabatte Io non ho parola me lo tolgo ma di che stiamo parlando questo venerdì aspetta giustamente non è finito una statuina del baby dragon giusto per gradire e una statuina del gigante signori questa è la terza che ho questa è la quarta no mi devo inventare qualcosa per esporle perché oltretutto sono troppo fighe raga ma se è così tutti gli anni io mi dissocio eh sabato sembra un pacco di nuovo tranquillo penso che ci daremo una calmata adesso no ok questa anche ce l'ho ne ho una sola però questo qua ce l'ho doppia la statuina dell'arciere questa è carina anche questo non ce l'ho ma no ma un'altra maglietta raga la maglietta col pecca che esce dal taschino questa qua è figa questa qua la uso per i video c'è il pecca che esce dal taschino raga poi cosa abbiamo qua calzini questi ragazzi ce li ho ovviamente ho tutta la collezione dei calzini questi forse potrei visto che adesso ce li ho doppi usarli questi qua potrei banalmente proprio usarli semplici semplici sono quelli con il spaccamuro easy peasy no scusate 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 è che mi faccio prendere da questi momenti c'è ancora una cosetta è un pancake è la moneta d'oro eh si è la moneta d'oro raga ossia l'elisir che la moneta d'oro che l'elisir nero raga ma che bellini ma che bello raga è perché morbida così non sembrava la moneta d'oro eh scusate che vedo pancake ovunque sabato tranquillo bello mi è piaciuto ma adesso questa è di nuovo bella grossa eh domenica ha fatto un rumore strano ragazzi c'è una mucca c'è una mucca dentro col campanaccio per forza allora facciamo un ragionamento insieme questo lo posso prendere se riesco a prenderlo e togliere via 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 allora elisir nero oro elisir cosa manca ragazzi cosa manca questa cosa qua accomuna tutti i giochi supercell una sola cosa la gemma ragazzi oltretutto questa io ce l'avevo per la gemgrab ho la gemma della gemgrab ma questa ragazzi è proprio la gemma questa è quella che ci ha fatto smadonnare su tutti i giochi supercell questa ragazzi da oggi è lei è il suo posto è nata per questo e che fai te ne privi nella borracina eh di quelle tra l'altro col pirulino che esce fuori ah con la cannuccia anche dentro cosa c'è una roba che dice tipo che ah ok sembra qualcosa di eco sostenibile vabbè sì perché è una borraccia suppongo che se è una borraccia riutilizzabile serva appunto per non consumare bottigliette d'acqua ragazzi con il loghino ovviamente clash of clans world championship allora è un po' più piccina è della mia però mi sa che la mia potrebbe finire in pensione dopo una cosa così cosa c'è qua scusa eh in inverno fa un po' freschino e che fai te ne ripeti una bella felpina con il logo della clash of clans world championship ragazzi finito finito signori datemi un momento e dopo aver impiegato ore a piazzare tutta quella roba in studio eccoci qua signori nello studio mamma mia quanta roba che c'è sta la gemmina l'adoro il resto commentatelo voi ragazzi tutta questa roba è un video speciale è un unboxing speciale per le finali che ci saranno questo fine settimana sul nostro canale di twitch anzi anche venerdì per la precisione vi ricordo ancora una volta gli orari venerdì 27 alle 4 su twitch sabato 28 alle 4 su twitch e domenica 29 alle 4 su twitch e ovviamente cosa fai? non rispegni le luci per far vedere come è l'effetto definitivo? alexa accendi studio signori boom wow sono contentissimo del risultato insomma è stato un piacere fare questo super unboxing fatemi sapere con sotto nei commenti qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più in assoluto ragazzi e noi ci becchiamo a un prossimo video ciao belli ciao